Piano Tau. Qual è il piano di esistenza successivo alla coscienza cosmica, dove adesso è ubicato chi noi abbiamo conosciuto come San Francesco? Per i maestri del cerchio K è il piano Tau, dove si sperimenta il limite della coscienza cosmica. Il Tau è il puro spirito del Brahman, che non è ancora, come si crede, la realtà suprema, perché è Krisna colui che è venuto a perfezionare la legge dei Veda.